Bentornati sul canale del team OG, siamo qui oggi con Andrea Salviato e Elia Poparella Che cosa avete fatto di buono oggi? Primo e terzo posto all'OTS di Mestre Mica male! Abbiamo giocato Sky Striker perché è quello che giochiamo da 4-5 anni Ecco, siamo tutti così, non abbiamo soldi Bene, allora vediamo come funziona questo Sky Striker perché io non lo conosco Partiamo dai monstri, 3 Raya, una Rose, giusto, una Rose perché è uscito Linkage Bravissimo, perfetto, faccio un'interrogazione io 3 Ancore, must, Linkage, più copie, questa bisogna spiegarla però Questa ha 2 perché è leggermente meglio di Rose però... Ma anche lui ne gioca 3, mi ha riempito di parole Eh sì, esatto, quindi questa qua si gioca 2 2-2, una copia, ma anche una No, ragazzi... Questo è la carta più forte del mazzo Insindagabile Un'area, afterbarners Roll Poco da spiegare su queste Da Igor l'avete detto perché era più forte del mazzo Sì ragazzi, assolutamente Dopo E monocopie Ah Dopo Minamistica Sì Questa l'ho giocata Per forza Di main, bene Adesso si parte col cancro Si può dire 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 Anche su queste E dopo Carte che sostituiscono le antrop Fa tanto schifo che ti ti ho riscontrato Anch'io Non ne ho mai risolto uno Anch'io 3 di queste 3 di queste Unica antrop 3 even L'asso di briscola L'asso di briscola Side Card più forte del mazzo Assolutamente Oddio Spieghiamola questa Perché non è usuale Quando il time sta per finire Diciamo che Perfetto Ecco perché le ho perse tutto il time Perché non la giocavamo Non sono mai riuscito a sidarla No E sono andato sempre al time Però diciamo questo è lo spazio di side più libero di quelli che hai a disposizione Più 3 di questi Contro tier Ok Contro tier Contro sprite se parti secondo perché ti fa troppo negate Devi Si Debitare Far mina Attenzione 3 cyclone Boh Non erano abbastanza le speltroppole mugge Perfaglianti spell fragrance Esatto E questi qua per proteggere i mina I nonni Bene Qualche parola Un po' diverso Extra Ah beh è vero L'extra Eh beh ma l'extra 3 Shizuku 3 Kagari 3 1 2 Giustamente 1 1 1 Perfetto Poco da dire Ringrazio il mio maestro Edoardo Candido Ah ringrazio Un sacco di ringraziamenti da fare Dai Sergio Elia per la lista Sì Dragos che non lo vedevo da una vita Mi ha abbracciato Mi ha dato una linkage Se ne è andato E me l'ha pure lasciata E Ricky mi ha prestato le carte Riccardo Mazzotti giusto Bene E lui per la lista E lui per la lista di nuovo giustamente Skyrest è il best deck giusto? No in questo format No però Non giocare più o meno per sempre Giusto Sono d'accordo Ciao a tutti Grazie